Il Città della Cava ha meritato di essere arrivato fin qui al primo turno dei play-off nazionali perché ha messo in campo qualità e soprattutto carattere. Sapevamo di andare a fare una partita con un solo risultato per quanto ci riguardava, che era la vittoria, e di incontrare una squadra che nel giro di ritorno aveva fatto sfracelli 10 vittorie di seguire, per cui sapevamo dell'importanza e della validità della squadra avversare, ma sicuramente sapevamo anche noi che cosa potessimo esprimere eventualmente in una gara come questa. Soprattutto in virtù anche di un fatto, nel giro di ritorno, come dicevo ai più, è vero che nell'arco del campionato non avevamo mai vinto un confronto diretto con le squadre che ci sopravvanzavano in classi, però il giro di ritorno ne avevamo mai perso. Abbiamo perso una volta solo? No, con le squadre che ci sopravvanzavano non ne avevamo mai perso, e avevamo fatto sempre ottime partite non centrando l'obiettivo della vittoria. Poi eravamo consci della responsabilità, abbiamo preparato per bene durante l'arco della settimana, nessuno si aspettava magari una formazione del genere, avevo della qualità dei giocatori, abbiamo approfittato di ciò e soprattutto avevamo caricato a mille questa squadra affinché potesse eventualmente ribaltare i risultati e darci ragione. Così è stata, la forza non ha voluto così e ce la teniamo ben stretta. Adesso più si va avanti e più è difficile, non solo perché siamo al primo turno dei play-off nazionali e avremo di fronte un Cerignola che ha fatto lo stesso percorso nostro per arrivare lì, ha dovuto eliminare il Racale e il Corato, ma ci troveremo senza addirittura sei giocatori squalificati che non possono giocare, Lourdi, Vitaliano, Rosario De Rosa, Calabrese, Tranfa e Manzi. Io credo che in carriera non ne sia mai capitato di trovarsi con sei squalificati tutti assieme, quindi le difficoltà stanno in questo. Sicuramente è brutto anche perché sono giocatori che stanno in due reparti fondamentali per quanto ci riguarda, centrocampo e difesa, tutta la difesa titolare tra virgolette sta fuori, però faremo di necessità virtù, se questa squadra ha dimostrato avere un cuore che batte dovremmo puntare molto su questo. Abbiamo di fronte una squadra molto equilibrata, molto fisica, molto aggressiva, è una squadra che difficilmente ti concede e soprattutto però c'è da dire anche un'altra cosa, è una squadra che nelle quattro partite che ha fatto i play-off non ha vinto neanche una volta, ha sempre pareggiato, per cui la dice lunga anche su quel modo di interpretare le gare e il carattere che ha questa squadra, quindi verrà sicuramente qua nella prima gara che gli compete cercando di non farci giocare nonostante fossimo magari in condizioni particolari, però noi siamo convinti e sicuri di quelli che abbiamo, di quei pochi rimasti che cercheremo di vendere cara alla pelle cercando di gestire il tutto, come ti dicevo l'altra volta negli aggettivi che hai usato io mi intromisi dicendo che dobbiamo fare una gara giudiziosa, noi interpretavamo proprio quel tipo di pensiero, noi qua dovremmo ripetere la stessa gara, molto molto giudizio, molto equilibrio e grande forza d'anno perché prima o poi questa squadra oramai nell'arco di un campionato intero se non subiamo e poi il gol noi lo facciamo comunque, dobbiamo battere su questo. Dice fuori casa avremo la possibilità di recuperare tutti gli assenti, potremmo magari giocare con un po' più di naturalezza al Monterisi su questa analisi? Mi interessa un passettino all'oltre, prima cerchiamo di fare quello che ci compete in casa, sapendo di avere sei squalificati, di mettere la migliore formazione possibile in campo con le grandi motivazioni che ci ritroveremo anche perché torno a ribadire, sapere di avere sei persone fuori, questa squadra dovrà caricarsi a mille, ricaricare il tutto e dare il massimo per quanto li riguarda, poi dopo il risultato vedremo come fare nella gara di ritorno eventualmente. Come preparerete questo impegno di play-off di qui fino al 3 giugno? 3 e 6 perché poi dovremo giocare anche di mercoledì? Ci alleneremo come ci siamo sempre allenati, cercheremo di stimolare moltissimo quelli che devono andare in campo, cercando di limitare al minimo di far giocare i giocatori particolari perché altrimenti rimarremo senza tali, cercheremo di gestire le forze che teniamo, le cercheremo di gestire, però siamo anche abbastanza tranquilli, adesso mi compete recuperare un po' di energie mentali perché le fisiologiche possono avere un calo di tensione in questo momento qua, bisogna ricaricare e cercare, oramai la partita di Montecravino, buono per noi, è andata, adesso bisogna mettersi nella mente che c'è il Cerignola che è la semifinale per cui bisogna focalizzare le nostre attenzioni, i nostri sforzi su questa gara. La mia curiosità, pensa che per precauzione sia necessario far venire in gruppo con voi qualche altro ragazzo che ha fatto parte della Juniores, in quei ruoli dove magari siamo più carenti al momento? Anziché far venire qualche ragazzo della Juniores che magari sono già due mesi e mezzo e forse non si allende, non sono abituato a certi tipi di impatti con le partite, se possiamo recuperare ancora qualche forza che ancora è tesserata con noi vedremo, perché abbiamo una rosa sicuramente risicata, abbiamo una panchina fatta di tanti giovani, ma soprattutto i giovani che per lo più hanno giocato pochissimo e queste sono gare importanti, soprattutto al cospetto mi auguro di una forte rappresentanza del pubblico che ci dia una mano e quindi dal punto di vista emotivo devono essere ben saldi con i piedi a terra perché è una partita molto importante nonostante fossimo in eccellenza, abbiamo una semifinale dove c'è bisogno di di grande carattere e di grande forza interiore. Alla Cavese Aquila in volo c'è una gradita sorpresa, Raffaele Dorsi, difensore che ha fatto parte della rosa del Poggia e che a Cava ricordano ancora con piacere. Raffaele ma che fai qui a Cava? Niente mi sto cercando di tenermi in forma dato che il campionato è finito il 6 maggio e quindi niente, per allenarmi. Tra l'altro ci viene in mente che tu conosci perfettamente il preparatore, conosci perfettamente Cesarano e mi sembra anche qualcun altro, quindi non hai avuto difficoltà insomma a ritornare qui, a ritrovarti con della gente. Ci sono anche i magazzinieri che si sono messi a disposizione e niente, mi hanno accolto qui, siccome le strutture sono un po' e quindi ho trovato spazio dove venirmi ad allenare. Nella stagione 2010-2011 certo non è stato il tuo periodo più felice come calciatore perché hai fatto una sola presenza a Cava e per giunta di 60 minuti a Taranto, una partita difficilissima, dopo sei stato rivalorizzato prima da Bonacina e poi anche da Stringara e di nuovo credo dallo stesso Bonacina. Dunque a Foggia ti sei rigenerato come calciatore? Ho trovato il mio spazio a Foggia e un gruppo di giovani che cercano di mettersi in mostra. È stata un'annata in cui comunque ho avuto un infortunio e non ho potuto disputare le ultime partite. Però tutto sommato sono parzialmente soddisfatto della stagione a Foggia. Prossima stagione cosa pensi ci possa essere nel tuo futuro? Adesso c'è ancora il contratto lì a Foggia quindi penso di rimanere lì. Anche perché la situazione a Foggia non è ancora abbastanza chiara? Sì non è stata definita ancora la situazione però niente finché non c'è chiarezza la contratto sono del Foggia. Tu sei tra l'altro di Rocca a Piemonte, dunque ti saranno sicuramente arrivate le voci che a Cava dei Tirreni ci sono stati grossi problemi per la Cavesia Vecchia. Adesso sorge questa realtà con la quale ti sei allenato oggi, il città della Cava, che si è qualificato ai play-off nazionali e minaccia anche il Cerignolo. Che cosa hai fatto? Un augurio al Cava? Sì mi auguro che possa risalire al più presto, Cava è una piazza importante e spero che ritrovi nel spazio nel calcio professionista, nel calcio che merita, quindi mi auguro che vadano bene questi play-off e riescano con successo. Se accadrà, pensi che in un prossimo futuro ti potremo rivedere a Cava, sei del 91, quindi hai tutta una carriera a disposizione. Per adesso sono vincolato al Foggia, poi chissà, il calcio riserva sempre delle sorprese, quindi non mi dispiacerebbe sicuramente, ritornerei molto volentieri a Cava. Grazie molto per la disponibilità. Grazie a tutti.